ciao ragazzi come va sono spartan dedo dedico questo video ad alfa annihilate annihilate che mi ha fatto un commento troppo carino e allora mi sono messo subito a registrare entro con il gifbringer ferrier con il drone wasp quindi gifbringer ferrier da combattere durissimo guardate come ti mangio lo scudo a quello la quello è forte ha un bello scudo adesso qua mi sta triturando cos'è ah si mi attacco sul sul fafnir e mi arriva un fastidiosissimo orochi tuttavia il fafnir attivato il drone nebula ce lo distruggiamo ce lo distruggiamo perché perché il drone nebula mi fa scusate il drone wasp mi fa il 70 per cento di danni in più di quadrativo reper unit purtroppo la mia vita è già un po compromessa adesso lui prova uscire lo rochi frega niente con l'arbi di esplosione provo a andarci contro però provando a uscire ha perso coraggio bro bro sveglia sveglia e mi hai fatto male abbastanza però ok mi si è già ricaricato il reper unit ok tir reper unit ancora lo utilizzo questo è un tir forte il crivello di colpi lo cerco di farlo esplodere ma muoio quindi entro con l'asso di bastoni secondo ferri raga si secondo ferri mosti i cazzi guardate gli plane in testa come un calabrone tre giù bam 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 uno se n'è andato oh c'ho il tir davanti ragazzi questo è un tir della madonna un tir che spara col pompa guardate la vita si continua a curare ci siamo tutte e due nerfizzati quindi soppressi io li comincio a sparare col thunder mh3 dentro scudo dentro scudo assobre e lui fa questa vampata che si cura ed è durissimo mi fa male mi toglie scudo sul ferri di prima avrete visto che mi costa solo 14 celle non 20 usare il reper unit perché ho l'abilità pilota oro ho due abilità pilota oro fortissime che mi fanno fare bam macellato il tir il tir qual è un tir era un tir fortissimo è passato dal macello e è stato fatto a carne e scatola adesso una simmental perché ha alzato lo scudo qua ho sbaglio alzo alzato il thunder prova a tirarlo giù ma è troppo tardi muoio molto male ok partita tirata non posso entrare con titan con cosa entro entro con scorpion entro con scorpion ne vado subito a fare blitz qualcuno mi martella alla sinistra qua è difficile purtroppo non becco bersaglio non riesco a esplodere abbastanza colpi e torno indietro ok mi calo scudo su raga caliamoci scudo subitaneo subitaneo io so la cosa c'è l'ho visto prima là c'è il c'è un typhon cattivissimo con la stand potenziato ah io devo andarla a prendere avventure andiamo a prendere il typhon adesso mi concentro non lo sparo subito lo becco bam bam gli svuoto tutto li si carica mp e me ne volo via mi ha impiato quando sono tornato se mi impia variero morto dai mi ha fatto fuori tutto col corrosion e mi ha distrutto peccato ok siamo sotto stiamo un po sotto ok volevo mangiare i titan ok adesso sono io con titan ragazzi l'ho alzato eh al 68 adesso questo qua fa il muscolo è muscolare eh muscolo andiamo a caricare i rebus miga quello scudo ed egis sarà quanto è durato guardate gli dura più della vita bam ok adesso non mi avvicina raggio perché ho paura che mi entra titan ho paura che mi entra titan ho paura che mi titan e voglio fare fuori ehm lui che li ho già triggerato la stand con scuola chi mi spara da dietro spero non titan che sia entrato dietro con titan perché hanno casa madre dietro hanno casa madre e invece no è un ok fa ok fafnir attivo scudo mi sposto carico arma e gli mangio la vita oddio questo è un titan due arthur mi impolverizzano subito no un arthur guarda di là quindi non lo miro e provo a rodere scudo a typhoon là in fondo prova a rodere scudo mmm arrivano le zaffate del bulava porca trottola ok arthur lui chiude scudo zaffata mi sposto evito più o meno le due zaffate dovevo attivare volevo vedere se correndo mi evito e martello il fianco morto ma avevo pochissima vita allora entriamo a supportare basta ci sono i titan ok questo titan abbassa vita arrivo e vampata di energia vampata curativa a vampata curativa a kid è un bel kid questo ah lì c'è arthur e raggio loro lì c'è arthur oddio lo sciaranga la oddio prendiamo preso raggio lo sciaranga l'ha mandato in esilio e visto che io sto supportando titan siamo due abbiamo preso subito raggio martoriamolo oddio mi ha sparato via no no ok vedete che è rosso bram 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 non si capisce niente sono armi fortissime che nerferanno sicuramente qua c'ho due c'ho queste tre armine una media e due piccole sono al sette raga fanno malissimo ok andiamo subito impulso di vita mi cura energia grigia con pilota il pilota più potente marico di il pilota di mender e supporto titan bellissimo giocare doppio asso di bastoni ferrier spaccare tutto e prendere raggio con vemenza e andarla a vincere così con il supportino finale bella partita raga col pompa tanta roba tanta registrato tanta roba si è vista tanta azione il kid scusatemi il mio titano ha fatto brutto supporto è stato utilissimo con sciaranga che esiliato ma che cavolo era il andiamo a vedere il giocatore che aveva quel tir che tir era contro il mio ferrier è stato durissimo veramente durissimo che chi dare non è lui tutta mk3 questi sono giocatori potenti in esperti 1 ok tra l'altro ucraini wow in esperti 1 o anzi in tir mk3 con adrian chong si ripristina ripristina più resistente più resistente moduli che si ricardano più in fretta sicuro ogni secondo scuro più resistente ragazzi questo è un tir da lega campioni ragazzi spero vi sia piaciuta questa partita un saluto ancora dal fanichilite